benvenuto sono delle piccole informazioni quelle che ti darò oggi per muratori questa è una livella anche per quelli che montano le mensole che devono farle stare dritte perché devono andare in bolla e la bolla deve stare lì a metà allora vuole dire che la mensole è dritta e quando ci metti sopra la palla non cade giù da una parte o dall'altra capito è importante conoscere la livella ma perché la livella facciamo così voglio fare un esempio pratico molto molto pratico allora la musica arriva qui la voce arriva qui ok quando io metto la livella sulla musica e appoggio l'altro lato sulla voce fa così è storto questo significa che quando tu registri la voce non gli fai nessun trattamento di bellezza la musica sovrasterà sempre la voce dice beh abbasso il volume della della musica si poi senti quelle cose per cui la voce laggiù lontana e la musica questa presenza bella accattivante e siccome le cose che noi facciamo di solito sono la voce guida se non senti la voce guida è come se tu avessi un video ipovedente non vede dove sta andando perché la voce guida non si sente talmente lontana e invece deve essere trattata e amalgamata con la musica dici ma se non ho la musica come faccio a fare in modo che suoni per quella musica beh ci sono un paio di trucchetti che si possono usare per fare in modo che la musica somiglia alla voce o anzi il contrario la voce somigli un po alla musica nel suo trattamento in modo da portare dritta la livella così e quando riceverà la voce e la affiancherà alla musica che tu non hai mai sentito beh molto probabilmente suonerà esattamente così capito questa è la storia della livella che ti racconto oggi è in bolla guarda guarda che mano ferma quando pensi alla registrazione non andare nei pazzi di b e che cos'è il loudness allora partiamo una cosa alla volta quando si registra si deve avere un livello che è il livello elettrico di entrata del suono del microfono che entra nella scheda audio quindi quello è un livello elettrico che non deve essere superato perché poi quando viene digitalizzato non suona bene perché supera diciamo le capacità della scheda audio di campionare i suoni ed è stato stabilito a meno 18 db per l'audio digitale lo 0 db non esiste non registri a 0 db registri a meno 18 ok poi in seguito puoi aumentare il suono e lo porti anche a 0 db e non succede niente non è che aumentando di quei 18 db che non hai usato dopo andrà in distorsione no assolutamente ci va solo se quando registri tu superi quella soglia non sono sempre meno 18 dipende dalla scheda audio sono schede audio che lavorano tranquillamente anche a dei livelli molto più alti ma diciamo che è stato definito come lo 0 db digitale leggiti la tua scheda audio che cosa ti dice e se senti che cracchia un po' su certe frequenze o fa delle cose strane potrebbe essere che tu sei stato troppo alto e quindi suono non riesci poi una volta che lo normalizzi a renderlo bello ma questa è una fase la registrazione poi c'è l'editing quindi hai il tuo bel file a meno 18 db la prima cosa che fai lo normalizzi tipo a meno 3 faccio per dire no o a meno 6 lo pulisci gli fai tutto l'editing di pulizia ma non è finita dopo devi raggiungere i loudness che è l'intensità sonora perché ti accorgerai che un file a meno 18 db a un'intensità sonora lo porti a meno 6 o a meno 3 avrà un'altra intensità sonora sì ma anche se lo porterai a zero per esempio non riuscirai ad avere l'intensità sonora delle canzoni che sono state masterizzate ed è lì che tu ti dovrai avvicinare prima di inviare il tuo file audio a chi che sia che poi lo mette lì e non lo fa sentire per bene forse magari no magari ti hanno detto non toccare il file audio che ci penso io in quel caso è un fonico non toccare il file audio ma se non sai con chi ha a che fare una toccatina io gli invaderei veramente il mitico de curtis ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero ognuno deve fare sta crianza ognuno ad atenechi stupensiero dice così la poesia no ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste mesta ricorrenza anch'io ci vado e con dei fiori adorno ill'oculo marmore e zi vicenza la ricorrenza vicenza che carina c'è carina 2 novembre stanno mi è capitata un'avventura dopo di aver compiuto il triste omaggio madonna se ci pensi che paura ma po facette un'anima coraggio un'anima coraggio ma po facette un'anima coraggio questo è napoletano dear british talking people you that talk just english better than me this is not italian this is dialect naples if you learn italian and go to naples you don't understand anything ok ok mi studio la livella intanto intanto che tu ti scopri un po di cose da come si registra facciamo allora poi cos'è a quanto a che livello sono guarda 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 di sotto che livello sono sono intorno e meno 10 meno 16 arrivo meno 16 meno 19 ma sono intorno e meno 18 db meno 18 db è lo standard di è lo 0 db digitale ok quindi quando incidi meno 18 db a meno che tu non abbia una scheda audio che ti consente di fare questo perché è progettata per fare quello ce ne sono alcune che hanno appunto non so già il compressore inserito e quando se lo vedi lavora a dei livelli differenti ma è stata progettata così se entri direttamente con il microfono direttamente nella scheda audio e registri solo esattamente proprio il microfono puro e sto usando un pure lct 440 della lui in questo momento per incidere questo suono come vedi il suono che sto incidendo è a meno 18 db ora è chiaro che qui su youtube lo sentirai più alto perché ho alzato il gain affinché si sentisse altrimenti con le cuffiette non sentivi assolutamente niente soprattutto se c'era entrato il cerume nelle cuffiette che mi è successo c'entra della roba che c'è dei gatti morti dentro e non senti più questa è la vita in capo a me pensavo chi ha avuto tante chi non ave niente chi non ave niente stu povero maronna si aspettava capura lato munno era pezzente a perché uno era uno spazzino l'altro invece un nobile signore quindi quando è morto anche il nobile signore aveva la tutto tutta la tomba adornata e invece lo spazzino no e quindi lui non si aspettava ma pure all'altro mondo sarò pezzente capito e a un certo punto dice mentre fantasticavo stu mentre fantasticavo stu pensiero se era già fatta quasi mezzanotte mezzanotte con una zetta sola e i rimanetti chiusi prigionieri morte paura nanze cannelotte vado a telefonare a giampa non lo so non questo microfono qui non mi ha soddisfatto granché registrato così direttamente flat sulla mia scheda audio non non lo trovo adatto alla mia voce ma probabilmente non lo so senti le medie come le ha tirate su è stranissima sta cosa allora se io prendo il meno 18 loudness lufs che ho fatto te lo faccio sentire questo è il file mentre fantasticavo stu pensiero mentre fantasticavo stu pensiero sarà già fatta quasi a mezzanotte ok e a 35 rms è veramente basso 30 31 quando va su non è esattamente il massimo cioè se mandi via un file di questo genere la prima cosa che ti dico è che non ti rendi conto di quello che hai registrato veramente perché per fare in modo che questo file si senta dovrà essere pompato a meno che non lo dai a qualcuno che lo butta su così com'è poi da un po di gain finché non si sente però anche dare gain è sbagliato nel senso che lo puoi normalizzare per esempio e allora non andrà oltre il limite che tu gli hai messo tipo 0 db meno 3 meno 6 eccetera ma se dai del gain e basta potresti semplicemente ritrovarti ad avere un file che distorce non metti un gain metti un limiter però deve avere un software che ti consenta di mettere un limiter ci sono molti software molto semplici per il montaggio video che ti fanno prendere la roba e la buttano su se la se la se la sovrappongono ma non hai una grandissima gestione dell'audio ed ecco che qui si presenta il problema per cui quando generi un file audio di questo di questo tipo e poi lo mandi a qualcuno che non sa metterci le mani la tua voce non si sente quante volte è accaduto oppure mandi il file dicendo io lo mando così perché mi pagano poco e poi ci sono i respiri tutti i tuoi rumoretti che magari non senti lì per lì perché perché non hai l'abitudine a sentire in cuffia in un certo modo hai una cuffia che non ti restituisce un risultato efficace e quando questo suono viene ampliato pompato questi rumori tutto questo questo questa roba che c'è sotto si sente molto di più ora ti faccio sentire di che cosa parlo in modo particolare allora prima facciamo una misura delle dei suoni qui ci sono tutta una serie di cose che poi ti faccio vedere ci sono tutta una serie di strumenti per misurare allora partiamo dal meno 18 che suonerebbe mentre fantasticavo sto pensiero sarà già fatta quasi mezzanotte meno 29 loudness la musica che probabilmente il tuo cliente sta usando o prenderà è questa mo te la faccio sentire questa l'ho scaricata da internet più precisamente ti dico anche da dove da audio jungle che avrai sentito un miliardo di volte bene come 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 arriva la musicale arriva meno 18 di piccola di audio jungle ma manco per no te la faccio sentire come esce realmente a 0 db a un valore integrato di rm cioè di lufs di loudness unit full scale cioè di percettività di meno 10 ti ricordo che più è basso il numero più è alto il valore nell'audio funziona al contrario cioè meno 23 è un valore più basso rispetto a meno 10 qui siamo a meno 10 loudness unit full scale che per darti un'idea corrisponde alla spinta che hanno gli spot radio masterizzati e finiti molte canzoni suonano così quasi tutte suonano in questo modo la tua voce lì sotto praticamente non si sentirà se io prendo il 18 db lo ficco qua sopra per esempio dammelo qua fommelo sentì fommelo sentì mettiamolo qua prendiamo il finale con solo la voce come come senti non si sente quindi non lo puoi tenere né mandare via meno 18 ma ma proprio per nessuna ragione perché al massimo lo abbassi il livello del file se proprio vuoi abbassarlo ma doverlo alzare lì diventa un problema principalmente perché non ti rendi conto di quello che stai facendo quando tu riascolti il tuo file quindi la prima cosa che farai una volta che tu avrai il file così tagliato meno 18 db troverai una menu nel tuo editor che si chiama normalizza e lo porti per esempio con un peak limiter anche a zero va bene facciamo una cosa a zero db e lo metti a zero però adesso sentiamo un po e allora mentre fantasticavo stupenziero sarà già fatta quasi a mezzanotte e il rimanetto anch'io io sento già ma questo perché magari ho un allenamento a questo questo qui qui sotto c'è un rumore e non è il finale della mia parola qui c'è un rumore che adesso non lo senti perché sei ancora comunque basso come rms manze cannelotte mentre fantasticavo sto pensiero sei rm gli rms sono 20 21 deve arrivare quasi a 10 hai voglia una volta che alzerai ulteriormente tutta questa roba si sentirà e se tu mandi via il file con tutta questa roba in mezzo è probabile che chi lo riceve non lo pulisca molto spesso non puliscono assolutamente niente quindi in realtà tu dovresti fare un'operazione di questo genere tipo tipo un pump ecco per esempio prendo un file l'ho pompato a meno 3 db come lo come l'ho raggiunto questo livello con un limiter cioè nel canale della traccia della voce questo qui ad esempio prendo il file a meno 30 che ancora basso sarà già fatta quasi a mezzanotte prendo questo e poi gli dico non uscire a più di meno 3 db c'è una ragione se è a meno 3 db e suona già a meno 18 lufs avrai 3 db aggiuntivi per arrivare allo zero senza andare in distorsione ma aggiungendo percettività del suono quindi adesso gli do 20 db di carica sono giusto a meno 17 meno 18 con 20 db di gain inseriti con un limite di uscita di meno 3 non va in distorsione il suono è forte è molto ben percepibile e lo posso mettere sotto una base con diciamo più tranquillità chiaramente la base dovrà essere abbassata che non è che puoi mettere la base e lasciarla così sei db li toglierai ci sarà la possibilità di abbassare il livello da non sento abbastanza la voce abbasso la base mentre fantasticavo stupenziero sarà già fatta quasi e come senti si sono avvicinate non va bene ancora il mix così dovrebbero essere abbassata ancora adesso io l'ho messo a meno 6 facciamo a meno 12 speriamo che il tuo fonico mentre fantasticavo stupenziero sarà già fatta quasi a mezzanotte perché adesso la base abbassata ha un integrato di meno 22 la voce pompata mentre fantasticavo stupenziero è lo stesso livello quindi la livella qui è stata fatta quello che manca però è la il corpo del suono nel senso che la base musicale ha tutto un suo perché perché ha un sacco di strumenti c'è il basso c'è la batteria c'è tutta questa roba e soprattutto è stata masterizzata in modo da renderla più corposa con un sacco di armoniche che la voce non ha perché ha semplicemente un limiter allora in questo caso potrebbero essere raggiunto e altre cose ma questo è già un un ottimo punto di partenza l'unica cosa che personalmente non amo di questo tipo di pumping è questo che questa roba mentre fantasticavo stupenziero è tutta tagliata lo vedi tutti i transienti sono tagliati significa che il suono è stato un po' indurito c'è un altro aspetto che quello che ti facevo sentire prima i rumori che ci sono all'interno mentre fantasticavo stupenziero sentito questo rumore come lo elimini questo rumore con un plugin da 25 euro più o meno oppure io in questo caso ne sto usando uno che costa un po' di più perché parte della scheda audio che utilizzo che è questo un ssl una channel strip in questo caso ce ne sono diverse in giro sempre della ssl c'è anche la nativa ssl se impari a usarla e usi l'expander per esempio risolvi questo problema l'expander funziona in questo modo ma quando queste lineette questi led sono accesi significa che l'expander sta lavorando cioè chiude la porta quindi quando arriverà in un punto in cui dovrebbe esserci silenzio al di sotto di una certa soglia che io qui posso stabilire meno 20 meno 25 meno 30 devi fare delle prove e si abbassa si chiude la porta e allontana tutti i rumori di fondo mentre fantasticavo stupenziero sarà già fatta quasi a mezzanotte chiude e il rimanetto è inchiuso prigioniere il risultato te lo faccio sentire direttamente è lo stesso file di prima questo è lo stesso identico file di prima cioè non ho cambiato parametri non più di tanto c'è un compressore forse addirittura in più senti qua questo è il primo e questo è quello sporco diciamo senza il dove sei finito? qui lo senti che c'è sotto e qui non c'è c'è anche un altro modo per migliorare diciamo la resa di questo tipo di prodotti e c'è dell'audio finale quando tu hai questi rumori di fondo dati dall'ambiente perché magari non hai un gate all'ingresso l'ambiente è un po' rumoroso c'è comunque anche in un boot c'è sempre un po' di rumore dato anche solo dai tuoi vestiti da una ventola che fa girare l'aria ci si può mettere una channel strip cioè una catena di effetti che contenga almeno un expander o un gate l'expander è quello che consiglierei questo è l'expander dell'SSL c'è la versione della UAD nel caso che tu abbia UAD cioè UAD X non ha ancora fatto uscire questo plugin in modo particolare però questo con 25 euro lo trovi 25 dollari 30 di solito si trova sia dalla SSL nativa che da altri produttori che tipo plugin boutique ne vende diverse di queste versioni che consentono appunto di aggiungere in catena prima di mandare fuori l'audio questo tipo di effetto che ti potrebbe fare questo giochino adesso lo esagero mentre fantasticavo stupenziero sarà già fatta quasi a mezzanotte senti che tagliuzza tagliuzza l'ho esagerato apposta per farti capire qual è l'effetto che sta facendo ora se tu riduci questo effetto alla semplicemente alle parti più basse del suono che sono quelle che contengono il fruscio di fondo se ne va completamente io gli ho detto vedi qua c'è 20 e qua c'è 20 sono i db di ingresso la soglia gli dico quando la roba sta sotto ai 20 db tu tagliala di quanto di 30 volte 20 volte 10 volte a seconda quando sento che non mi sta tagliuzzando le parole e allora vuol dire che il suono c'è a questo punto se io lo estraggo questo file audio e lo chiamo e lo chiamo pump 2 clean per esempio in questo caso gli ho dato l'SSL come riferimento che mi taglia fuori dove sei l'hai già fatto si beh benissimo quando io vado nella parte che prima era mettiamolo in mono nella parte che prima era rumorosa c'era anche un click fra l'altro non c'è più quel ssh se n'è andato rimane solo un leggero rumore di fondo ma lo stupenziero sarà già fatta quasi a mezzanotte il fiato lo posso togliere e il rimanetto è inchiuso prigioniero questo lo ha tolto non c'è più rumore e la c'era questo lo posso cancellare senza timore di creare un click perché ho cancellato qualcosa qui perché è praticamente a zero il livello lì in quel punto e nel finale te nel finale dell'altro invece c'era un'altra cosa che ti faccio vedere lotte senti c'è questa roba che perché stavo prendendo un fiato qui è sparita l'SSL me lo ha portato via lo ha pulito quindi questo file di fatto anche se lo pompi molto è già abbastanza pompato non si porta dietro questi difetti capito perché devi alzarlo perché devi anche sentire che cosa stai mandando in circolazione del tuo del tuo livello ora questa roba qui che io ho fatto pump 2 clean se la metto per esempio fai vedere su questo canale qui questo pump 3 c'è qualcosa qui sopra si c'è troppa roba spostiamo un attimo qua spostiamo avanti tutto anche questo e vediamo un attimo come suonano questi due su questa traccia non ci sono effetti quindi è esattamente come glielo do e su questa traccia non ci sono effetti ho solo abbassato i 12 db che non è neanche male mentre fantasticavo stupenziero sarà già fatta quasi a mezzanotte e il rimanetto è inchiuso prigioniero ok quindi di fatto facendo questo tipo di operazione hai già ottenuto un file che anche su una musica molto corposa come quella che ti ho fatto sentire si farà sentire allora mi sono fatto spiegare come si dice questa frase non glielo ho fatta leggere tutto è stato carino ma mi ha mandato Giampa 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 Serino che è uno speaker mio collega molto bravo lui mi ha fatto una cosa nel suo dialetto questa è come andrebbe letta questa frase mentre fantasticavo sto pensiero si era già fatto quasi mezzanotte e il rimanetto inchiuso prigioniero morte e paura ecco c'è mentre fantasticavo sto pensiero si era già fatto quasi mezzanotte e il rimanetto chiuso prigioniero morto e paura non si è cannellotte non si è cannellotte non si è cannellotte ma mi hanno fatto quattro versioni una più bella dell'altra questa qui mi piace questa è la quarta mentre fantasticavo sto pensiero si era già fatto quasi mezzanotte e il rimanetto chiuso prigioniero morto e paura non si è cannellotte ma se io dovessi fare in bolognese perché io sono emiliano sono di bologna e quindi essendo allora dovrei farla a bologna so che come fai il testo non si presta perché questo è stato scritto in napoletano questa è proprio una lingua a parte capito dear english people that you learn italian this is another language ve l'ho già detto you know ok and now i i i will present you another another language again the bolognese instead the napoletano because i wanted to translate perché voglio translare tradurre this sentence this poetry in bolognese instead napoletano but will be a bit different because it's different the character the 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 feeling the soul of the people all along the italy if you go to north you have german people if you go to south you find african people and in the middle all the rest so we we got something in france francese ok in bologna in napol i don't know it is really a fantastic another world yeah mentre fantasticato sto pensiero bellissimo mentre fantasticato sto pensiero sare già fatto quasi mezzanotte e e e e rimanette chiuso prigioniero rimanette chiuso prigioniero muorte paura muorte paura nanzi cannelotte mi viene in mente pino daniele lo adoravo quindi va bene facciamo un altro po di parliamo di lufs intanto io mi studio invece questa qui la voglio trasformare in nello stesso pezzo questo verso in bolognese lewitt l'lct non mi ha soddisfatto tantissimo con l'ingresso diretto così e poi e poi volevo fare un'altra prova con un tono differente cioè se tu stai basso come 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 parlato come livello di suono per esempio capita negli audiolibri nelle poesie anche nel doppiaggio ora chiaro nel doppiaggio un'altra storia perché è completamente diversa tutta la struttura di ripresa l'ambito eccetera ma nel voice over qui la finestra aperta auto che passano nel voice over parlare piano significa avvicinarsi al rumore di fondo dell'ambiente ora se tu hai un ambiente molto rumoroso e con un computer vicino nei pressi anche nella stanza immediatamente accanto ma la porta non ben chiusa e oppure delle ventole che fanno girare un po d'aria perché si schiatta all'interno di un ambiente piccolo insomma qualunque cosa tu abbia che produce un po di rumore se tu parli piano naturalmente questo rumore si farà sentire particolarmente ecco perché lì è importante avere una catena di ingresso ho fatto vedere come come aggiungerla in uno stupido video che magari ti metto qua sopra e che appunto spiegava come aggiungere gli effetti se non ce li hai fisicamente cioè se non hai un rack fisico da con con il preamplificatore un gate un expander e un compressore eccetera e però va bene la mia scheda audio in questo caso l'apple lo posso farlo perché aggiungo questa roba ma ci sono anche altre schede audio che hanno appunto tutta una serie di effetti utilizzabili come come effetti di pre in ingresso che se tarati bene tengono fuori proprio quei rumorini che poi diventano fastidiosi perché quando prenderai il suono lo porterai a meno 18 addirittura meno 13 loudness unit full scale come file finale usciranno si faranno sentire cominceranno a sentirsi parecchio quindi io di solito utilizzo un metodo diverso da quello che ti ho fatto vedere prima e dentro già con un suono trattato in pratica quindi il mio suono sarà una cosa di questo genere cioè questo è il suono che io ho usato per per incidere questa nuova versione che ho fatto con un tono di voce molto più basso mentre fantasticavo sto pensiero ora lo portiamo a 0 db così possiamo vedere come abbiamo fatto prima mentre fantasticavo sto pensiero sarà già fatta quasi mezzanotte ed io rimasi come senti non c'è cioè non entra niente il rumore bassissimo e ha meno 58 rms di fondo quindi questo mi consente di elaborare questo file senza timori di portare fuori dei rumori quindi se è tutto un lavoro di editing che mi evito di fare in precedenza diciamo prima di caricare il file su una do e poi dopo metterci dei compressori o anche solamente un limiter per farlo diventare un pochettino più corposo questo lo posso fare diventare corposo come cavolo mi pare perché mi basta veramente pochissimo di solito io lavoro con una cosa di questo genere l'architettura diciamo della mia del mio sistema prevede questo che io ho due tracce all'interno di un bus puntano tutte e due a questo bus quindi non vanno direttamente in uscita su questo bus io faccio un pre mastering in questo caso ci metto l'ssl sto usando questo ssl native qui mentre fantasticavo sto pensiero ci metto un pull tech perché mi dà la possibilità di correggere correggere eventuali suoni che poi la cena strip magari mi tira fuori oppure lo voglio un pochettino più chiaro piuttosto che un pochettino più scuro eccetera qui posso lavorarci tranquillamente poi da delle armoniche già di fatto per i fatti suoi qui posso aggiungere anche altre cose compreso un da essere eccetera ma il da essere lo preferirei alla fine perché questo bus non è quello che fa tutto il lavoro di mastering questo fa un pre mastering di equalizzazione e tutto il resto e poi ce n'è un altro in cui entro con un equalizzatore che di solito tengo acceso a seconda del media a cui è destinato il file audio a cui lo mando se dovesse essere una radio io di sicuro non vado oltre i 17 kilohertz perché la radio tanto non li trasmette quindi me lo tengo basso ma comunque faccio in modo che tutto venga tagliato sui 13 14 15 kilohertz nella nella nelle parti della sola voce questo è solamente il microfono perché non ci arriva cioè quelli sono suoni che non esistono nelle parti basse idem cioè le frequenze molto basse sotto i 180 hertz comincia a degradare perché non è lì che c'è il suono basso della voce le basse della voce non sono sopra gli 80 hertz di solito quindi mentre fantasticavo sto pensiero sarà già fatta quasi mezzanotte sono tutte qui qui 100 120 200 sono lì sopra il resto rischia di portare dentro semplicemente del rumore che poi quando lo vado a misurare diventa parte del suono e a me non serve raggiungere quei loudness unit quelle quella quella misurare quella percezione di suono di per un suono che non si sentirà poi la maggior parte delle persone a cui è destinata questa roba lo ascolta nelle cuffiette sotto i 150 hertz non sente niente sopra i 14 kg non sente assolutamente niente quindi è inutile che io vada enfatizzare quella roba e saturando l'uscita e creando un file che di fatto sembra suonare tanto bene in cuffia perché sai hai delle cuffie magari molto buone per sentire tutti i particolari difetti che ci possono essere all'interno del file ma che poi in realtà non ti serve assolutamente niente quindi tutta quella roba la puoi tagliare fuori e a quel punto una volta che l'hai tagliata fuori puoi cominciare a dargli del corpo ulteriore mentre fantasticavo sto pensiero sarà già fatta quasi mezzanotte ed io rimasi chiuso prigioniero morto di paura lì tra le candelotte vorrei che togliesse non più di 4 db mentre fantasticavo sto pensiero sarà già fatta quasi mezzanotte ed io rimasi chiuso prigioniero morto di paura anche questo non toglie più di 3 db arrivo comunque già 17 luscia io sono già più che contento di questa se volessi essere sicuro di non andare a disturbare con le frequenze alte che cominciano a farsi sentire un po molto quando c'è molta compressione potrei usare un da essere alla fine questo è lspl per esempio mentre fantasticavo sto pensiero sarà già fatta quasi mezzanotte ed io rimasi chiuso prigioniero morto di paura questo mi consente di abbinarlo alla musica senza timori mentre fantasticavo sto pensiero sarà già fatta quasi mezzanotte però senti che si raggiunge un calore un'intensità del del suono della voce che dato che sarà la voce guida ti consente di renderla veramente una voce guida e non una voce che non ho capito cosa hai detto capito e poi volendo se uno fosse veramente se dovessi mandare fuori il file proprio con con la musica e tutto a questo punto metterei un duck un ducking un compressore alla fine tipo questo che riprende il suono dal bass delle voci ok lavora in side chain e poi abbassa di qualche db sono in modo da fare spazio alla voce ma questo è un altro discorso però si potrebbe fare mentre fantasticavo sto pensiero sarà già fatta quasi mezzanotte ed io rimasi chiuso questo sarebbe un altro argomento che riguarderebbe il mix della base sulle voci nel voice over che dovrebbe essere invece inserito come materia di studio all'interno delle scuole elementari dato che i media li usiamo tutti quanti e va bene capito sì si potrebbe arrivare questo cosa cosa fai una volta che hai fatto questo come esce il suono giusto hai ragione facciamo diamo un'occhiata anche fisicamente a come a com'è questo qua full siamo a meno 18 sì è già meno 18 perfetto andiamo in bounce a vedere che cosa ci ha regalato come vedi non è schiacciato non è per niente schiacciato io rimasi chiuso prigioniero morto di paura se volessi potrei aggiungere il vlm anzi dovrei metterlo il vlm non l'ho messo qui ma dovrei metterlo proprio e digli di andare a meno 5 7 vediamo mentre fantasticavo sto pensiero sarà già fatta quasi mezzanotte se io gli do questo limite e lui sta molto basso come suono ma l'intensità è alta vediamolo mentre fantasticavo sto pensiero sarà già fatta quasi mezzanotte ed io rimasi chiuso prigioniero morto di paura ok sono a meno 18 lufs va benissimo portiamo giù questo a meno 18 due dovrei avere una maggiore possibilità di lavoro ok si infatti mi ha corretto vedi rispetto all'altro mi ha corretto queste parti chiuso chiuso me l'ho preso e lo ha ed io rimasi chiuso corretto chiuso questo è il limiter alla fine in termini di suono mentre fantasticavo sto pensiero questo mi dà 15 loudness 15 rms scusa mentre fantasticavo sto pensiero anche questo intorno ai 15 con la differenza che ha corretto questo questo sarebbe arrivato vicino allo zero cioè arrivava a meno 1 81 significa che se io volevo poi alla fine normalizzarlo a zero ipotesi questo arrivava al massimo a questo livello questo a zero dato che il limiter gli ha corretto tutto quanto cresce di un bel po mentre fantasticavo sto pensiero sarà già fatto io ho un rms di meno 10 meno 9 il che significa che se io glielo dato a meno 6 db come livello massimo il tecnico che riceverà questo file avrà altri 6 db di gain per potere sovrastare il suono della musica in caso abbia una musica particolarmente corposa oppure che la voce non si senta a sufficienza poi è abbastanza calda puoi togliere degli altri bassi fare in modo che la musica abbia la sua il suo spazio e la voce magari lavora di più sulle frequenze medie ma questa è pensata come voce solitaria cioè con l'assenza quasi di musica o comunque musica per niente invadente perché è la voce guida a seconda del tipo di produzione a quel punto dovrà essere il tecnico però in ogni caso noi sappiamo che molto spesso non abbiamo a che fare con tecnici ma con persone che prendono tecnici audio ma che prendono questi file musica e voce e vogliono che suonino bene insieme e allora ci sono questi sistemi per fare in modo che questo accada ed è una cosa che dobbiamo fare noi che facciamo il voiceover che ci dobbiamo trasformare mi spiace per te un po in fonici anche se non è esattamente il nostro lavoro ma abbiamo livellato i suoni oh bienvenue welcome this is another take with italian internal language that you don't know if you don't live in italy because you 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 learn italian no you use you study italian but you don't learn italian if you go in naples you will hear someone that talking this way mentre fantasticava sto pensiero sarei già fatto quasi mezzanotte ha capito ma se if you if you se tu vai a bologna if you go to bologna this poetry never exists but i translate in bolognese and sound in this way intanto che me affeva sti pensiero la mezza la riveva pian pianè ir avanze srelle parsunir ca un gran scagazzo lì in mezza chilomei that means meanwhile i do this thinking giusto mentre io facevo sti pensieri la mezza la riveva pian pianè midnight comes slowly ir avanze srelle parsunir i was blocked inside prigioniero you know prigioniero i don't know prigioniero devo trovare la traduzione prigioniero traduci prigioniero che captive 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 ok i was blocked captive and paura come cazzo si dice in inglese che non lo so traduci paura fear 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 morto di paura but it's a little bit different in bulgnais because it's ca un gran scagat how can i translate you ca un gran scagat ok you know le mezza chilomei in in the middle of that little flame because you know in the cemetery there are flame for any tomb tomb si dice tomb for any you you have understood no not a problem this is something very silly well well we did a really great balance from italy and dialect and sound and you know thank you for watching this video grazie per aver guardato questo video oh a te ringrazio di mondi buonale ti ringrazio davvero tanto ora abbiamo finito thank you very much this is the end grazie per aver guardato questo video 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 grazie per averato questo video Grazie a tutti